Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video e non avevamo ancora recensito la nuova uscita per la linea Sage Figures dedicata a Dragon Ball ovvero Kiwi il soldato di Freezer eccolo qua nella sua confezione perché c'è questo Vegeta ragazzi perché all'interno è contenuto un viso esclusivo per questa figure quindi poi l'andremo a vedere questa comunque ripeto è la confezione se volete acquistarlo ragazzi è un'edizione limitata quindi tra un po' sarà introvabile lo potete trovare sul mio sito Ara Shop nel link qui sotto in descrizione ma direi di non perdere altro tempo andiamo subito a vederlo fuori dalla confezione ed eccolo qui fuori dalla confezione con tutti i suoi accessori cominciamo a vederli e partiamo dalle solite manine intercambiabili abbiamo queste due qui solite con comunque delle sfumaturine quindi come al solito Bandai sui personaggi secondari se non terziari se non ancora peggio si impegna molto di più queste altre mani aperte e poi questa qui unica con le dita alzate poi abbiamo due scouter ragazzi io pensavo che uno fosse di Vegeta in realtà questa supposizione aveva poco senso perché Vegeta c'è la viola sono due scouter entrambi per lui perché perché ragazzi abbiamo vedete allora questo viso sorridente testa in realtà sorridente senza orecchio intercambiabile quindi qui non va lo scouter poi abbiamo quest'altra invece con l'espressione vedete sbalordita dove l'orecchio è smontabile e qui va lo scouter va uno dei due scouter cioè quello dei due che ha un taglio vedete un po' più oblicuo che è questo qui dovrebbe andare su questo viso qua andiamo a verificare se va esatto vedete va in questo modo qui attenzione all'orecchio non perdetelo poi abbiamo quest'altra testa invece con un'altra espressione molto figa senza orecchio intercambiabile e poi abbiamo quest'altra questa è la più figa assolutamente ragazzi una testa veramente incredibile insomma ragazzi abbiamo in totale cinque teste considerando quella montata e andiamolo a vedere il nostro Kiwi prima di tutto chiaramente c'è il viso di Vegeta eccolo qua dopo lo andremo a montare vediamo come sta andiamo a vedere il nostro Kiwi più nel dettaglio ragazzi questo è il viso base la testa base di cui è dotato con anche questa orecchio intercambiabile addirittura hanno messo due scouter diversi cioè una roba incredibile quando si impegnano veramente si impegnano tanto e qui appunto andrà l'altro scouter che non era compatibile con l'altra testa eccolo qua perfetto ragazzi e vediamo i dettagli comunque la natura molto ben fatta questo color viola veramente ben realizzato in realtà non presenta chissà quali sfumature le presenta un po' sui guanti vedete sono un po' grigini per le sfumature gli stivali sono veramente fighi hanno questo verde molto chiaro sfumato che si schiarisce ancora di più sulle scarpe vere e proprie comunque una realizzazione devo dire ottima andiamo a vedere le sue articolazioni ragazzi come al solito top guardate la testa movimento incredibile anche rotazione le spalline sulla scia di quelle di Vegeta l'apertura delle braccia butterfly joint anche questa veramente ottima che si crea il gap sì però il movimento è davvero incredibile abbiamo la rotazione del bicipite piegamento doppio al gomito piegamento al polso rotazione al polso ovviamente il braccio fa il 360 gradi inutile dirlo poi piegamento qui al busto piegamento anche laterale rotazione alla vita piegamento in avanti e indietro gambe in avanti gamba all'indietro qua un po' limitata dallo scalp ma neanche troppo in realtà l'abbiamo poi l'apertura quasi massima rotazione piegamento doppio al ginocchio piegamento al piedi in su piegamento in giù e piegamento alla punta del piede rotazione ovviamente piegamento laterale della caviglia come al solito andiamo a misurare l'altezza il nostro kiwi è alto praticamente come Vegeta quindi 14 centimetri e mezzo eccolo qui anzi Vegeta è leggermente più alto per quanto riguarda il ciuffo di capelli ma è più bassa come personaggio vedete la spalla è più bassa eccolo qua Vegeta con il viso che è molto figo sicuramente un'aggiunta carina sì ma questo viso doveva semplicemente essere incluso già in Vegeta non lodiamo Bandai per cose per cui non va lodata Marvel Legends, Mafex e Monezza Spider-Man Marvel Select ed eccoci qua con il nostro kiwi o come volete chiamarlo chiamatelo che viene distrutto e fatto esplodere da Vegeta quella testa serve proprio a quello e la manina con le due dita alzate ragazzi era di Vegeta e non di Kiwi che fa questa mossa che poi non ha mai più fatto in Dragon Ball ovvero due dita alzate bam e fa esplodere il povero kiwi che serve solo a quello e questa figure serve solo a quello sì carina molto ben fatta si sono impegnati tanto ma era un personaggio totalmente inutile potevano fare tanti altri personaggi però sicuramente una chicca da aggiungere alla collezione se si vuole ricreare questa particolare scena una chicca abbastanza costosa però da aggiungere alla collezione per fare questa scena quindi traete voi le vostre conclusioni comunque diamo i voti ragazzi come accessori l'hanno riempito ragazzi è un 9 pieno anche se la basetta potevano metterla appunto perché lui comunque va tenuto in volo per fare questa scena sempre devono risparmiare su due pezzi di plastica per quanto riguarda appunto le articolazioni vabbè sono top veramente ormai hanno raggiunto un livello incredibile 9 pieno anche qui l'estetica anche questa fatta veramente bene qualche sfumaturina l'avrei aggiunta qualche sfumaturina in più 8 8 le teste sono veramente fenomenali soprattutto quella lì montata una figura ragazzi da 8 e mezzo anche sì chiaramente sì ma totalmente inutile ripeto però si tratta di un'edizione limitata questa quando sparirà tra qualche mese farà piangere chi se l'è persa adesso sicuramente quindi se volete aggiungere alla collezione ragazzi non tergiversate perché lo sapete ormai lo potete vedere anche voi che fine fanno queste figure edizione limitata detto questo ragazzi vi ringrazio sempre per la visione spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate di questo cui chiui con un commento qui sotto ritenete sia utile la sua presenza in questa linea oppure no lasciatemi appunto la vostra opinione detto questo vi ringrazio come sempre per la visione ciao da Ara e colleziate sempre grazie grazie